E signori, buonasera e benvenuti ad un altro weekend rovinato. Per colpa di chi? Del lavoro? Degli amici? Della fidanzata? Del cane? Del gatto? No! Per colpa del Milan! Eh sì ragazzi! Milan Udinese, la partita proibita perché è una sfida che vinciamo veramente una volta su cinque. Di solito va sempre così, che una la vinciamo una la perdiamo, di solito è sempre così. Il pareggio è una cosa molto rara. Detto questo, durante la pausa nazionale si stava così bene, una pace dei sensi pariva ad essere tornata in estate e invece oggi, 19 ottobre, live reaction numero 163, risiamo qui di nuovo. Io, voi e loro. Io non ho ben capito chi sia l'allenatore dell'Udinese, non ne ho idea, però mi tocca dire che finora non ha fatto un brutto campionato, questo va detto. Adesso ci sarà un bel tour de force perché saranno sette partite in 21 giorni, fino alla prossima sosta. Ora, io non pretendo di vincere tutte perché penso che qualsiasi squadra non sarà in grado di vincere tutte, almeno qualche pareggio ci può stare, però quello che vi chiedo è veramente di tenere la testa salda sugli obiettivi, sul campo e di portare a casa, diciamo, un bilancio, chiamiamolo positivo, ecco, quello vi chiedo. Una cosa, ragazzi, è super certa che quello che ho visto a Firenze io non lo voglio più vedere. Né oggi, né domani, né tra un anno, né mai più. Una partita come quella di Firenze, ma neanche a livello di gioco, a livello proprio mentale, di cattiveria e soprattutto anche di gestione dei nervi, io non la voglio più vedere. Non deve veramente più esistere, ragazzi. Un Milan che non faceva così male, pensate, da dieci anni a livello di partenza in Serie A. Capito? E ragazzi, oltre ai quasi 4.000 iscritti su YouTube, ai 1.000 follower su TikTok, ci tengo anche a ringraziare i 100 follower tondi, tondi, tondi su Twitch. Traguardo del cazzo a che però io tengo, quindi. Grazie. Però vi devo dire che la formazione dell'Udinese non è neanche così male. Però l'Udinese è sempre con una squadra che vende, 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 ma alla fine riesce sempre a raccattare a destra e a sinistra e a farsi il suo campionato. Fosse un top club, vincerebbe qualcosa ogni anno. Datemi retta. Va bene. Cazzate a parte. Fischia Chiffi, si parte. Si parte a San Siro, divertiamoci. Posso fare un commento? Subito dopo 19 secondi. Che io un'opportunità piccola piccola a Chimenez sulla sinistra gliel'avrei data. E già si sbaglia. Mostri più di a gol. L'Ovric ci tirano, vabbè. È stata la peggior scelta che potesse fare, però già una bella palla sbagliata. È regalata all'Udinese. Male, male. Buono, Paolo Vecce, però no, no, Forra. Loca. Ma perché cazzo tiri? Sono queste le cose che mi danno fastidio, ragazzi. C'era Morata lì. C'era Morata lì. C'era Morata lì. Perché gli avversari questi errori non li fanno mai? Solo, lo ripeto, ogni partita solo il Milan fa questi errori. Pulis è catagliato, Morata si è allargato, ha tirato. L'ha passata al portiere, neanche ha tirato. C'è un'offesa per qualsiasi tipo di tiro questa. Okafor dentro. Reinders. Però, fate qualcosa. Nulla da fare. Okafor bravissimo. Parte un Morata, bravo Okafor. La gira. Pulisic. Tresesimo. Tresesimo. 1-0. Goal di Tshukwu. Vabbè, questo è il gol di Tshukwese, ragazzi. Lì in buca d'angolo. Okafor. Arrivaci. 1-0 gol di Chukwet Chukw 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 Assist di Pulisic O fa gol o mette l'assist Non c'è cazzi Che bella l'accelerazione di Okafor Che invece Che in testa a ardirsi come fa qualcuno Non facciamo nomi La dà nel mezzo Pulisic che poteva tirare anche lui Invece si ciuccia il difensore E la mette nell'angolino Samu Chukwet 1-0 Vamos così No 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 Stai cazzo di disattenzione Il ZV Mignan Renders Va da solo C'è largo Okafor Però è buona Morata Che paraccia Gli l'ha tirata addosso Ma era un colpo di testa Con i contro cazzi Il migliore che potesse fare L'ha fatto Un pochino più angolato qua Okoye E qui lo sai che Morata Forse L'ha colpita troppo bene Centralissima E quello che ho detto io L'ha colpita troppo bene Calcio d'angolo Ancora Pulisic Ma sono alti Quelli dell'Udinese Buono Oh Renders In curva Era fuori gioco Secondo me Era buona Era buona No Fofana Pulisic Potrebbe tirare Ma non addosso al difensore Testa di minchia C'è E ci era Chiuquese Lì Bastava di fare La stessa cosa Di prima Niente Tenti che questi Ci hanno tre Bestioni Davanti Attenzione Emerson Royal ovviamente che capisce la situazione al volo scansa la palla apposta e regala calcio d'anca all'Udinese non va bene colpo di testa, palla fuori bravo Morata no ma perché zannunga sempre la palla Alvaro per carità io anche l'1-0 contro l'Udinese me lo prendo l'1-0 invece a proposito di analisi ecco il lancio profondo da parte di Biol per la commissione con Lovric che scappa alle spalle della difesa del Milan rosso rosso per Reinders Milan in 10 uomini al 29 raga ok vabbè fallo dell'ultimo uomo deve essere espulso per carità a parte qua c'è stato di nuovo l'errore del secondo gol della Fiorentina io ho visto uno scontro proprio alla pari un classico spalla a spalla ho visto però vabbè se l'espulso si va avanti è buona e siamo sempre primi in classifica con i cartellini rossi esattamente come l'anno scorso io veramente non c'ho parole veramente ultime tre di campionato tra i cartellini rossi Terracciano, Ternandes e Randes io veramente non c'ho parole e comunque ribadisco per chi volesse a tutti i costi fraintendere le mie parole che prima di tutto l'ho detto subito c'è stata la svista difensiva che si è inesorabilmente ripetuta la lezione con la Fiorentina non era bastata e siamo lì a parlare delle solite cose calcio di punizione per l'Udinese non mi sorprenderebbe facessero gol potrebbero fare gol potrebbero fare gol ragazzi è iniziata un'altra partita poi meglio un centrocampista centrale che un difensore per carità qua dovresti sacrificare un attaccante e fare entrare l'Oftus Cic fallo lo ammoniamo un giocatore dell'Udinese? no 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 ma figurati no no qui ovviamente vorrebbero il giallo e secondo me ci starebbe il giallo qua certo ammoniscine uno no fallo allora ti espelli un giocatore per un contatto minimo un fallo tattico proprio il fallo tattico dei falli tattici ginocchio contro ginocchio non tira fuori neanche il giallo io metterei la regola che il minimo errore arbitrale che influisce sul risultato finale qualsiasi squadra sia la partita si ripete punto perché non è possibile Okafor 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 praticamente pallone che finisce quasi nel primo anello di Sanziro io ve lo dico 36 e 29 che se continuate a scherzare col fuoco questi gol lo fanno ci sono già andati vicino continuate a scherzare col fuoco ragazzi perché poi finisce come con la Fiorentina scherza 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 avete pure scherzato con un calcio di rigore quelli che hanno vinto la partita altro fallo dell'Udinese altro giallo che non vola si scoraggiano e c'è un altro fallo lo ammonisci lui? nooo nooo ammonisce lui l'ha spinto via così niente cartellino giallo qua potresti nell'intervallo togli Okafor metti Musa fallo fallo ahhh si un giallo si ce l'abbiamo fatta un giallo alla quinta alla quinta un giallo Biol alla quinta ragazzi Saraga no no eccolo eccolo ragazzi no 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 non lo so se è fuori gioco questo ragazzi non mi convince non mi convince fuori gioco non mi convince Pavlovich sanguina cazzo quindi potrebbe esserci anche un potenziale fallo devo rivedere un attimo la cosa è un attimo distratto ma intanto il gol te l'hanno fatto no no eh l'ho visto che era buono ragazzi questo è gol buono questo non è fuori gioco ragazzi mmm questo è gol ragazzi questo è gol lo dico io c'è cover fuori gioco confermato oh ve lo dico un'altra volta state scherzando col fuoco è già la terza volta che ve lo dico Pavlovich palese alla chiellini oh caffor bravissimo ciucu ciucu c'è Morata servi Morata servi Morata cazzo servi Morata è inutile che chiedi scusa è inutile e prima gli chiede scusa a quello e poi gli chiede scusa a quell'altro ma una volta dove non c'è bisogno di chiedere scusa ce n'è mamma mia davvero di pochissimo mamma mia di un gomito anzi di mezza spalla è perché c'è il pezzo di gomito anche questo è un fuori gioco che non ti avrebbero fischiato a cose normali comunque ragazzi io ve lo dico così da così non si può andare avanti ve lo dico già adesso io ho un campionato come lo scorso non lo voglio passare e siamo sulla buonissima strada per riuscirci vi arriva il messaggio Zemmura Mignan contropiede contropiede mi tocca urlare solo 1-0 Milan contropiedi da 5 anni forse anche di più l'ultimo che aveva le palle di fare contropiedi era gattuso fino a primo tempo malissimo malissimo questi pareggiano ve lo dico adesso questi pareggiano sarà musa entrare ragazzi l'unico commento che momentaneamente riesco a fare è boh al 2 minuti e mezzo mi sono pronta pure la pasta quindi dovevo fare multitasking si inizia battere udinese mi io ho già sempre paura ragazzi oh comunque Fonseca mi ha ascoltato e ha fatto i cambi tolto Okafor sposato Pulisi i campi che avevo previsto fallo di Terracciano e vola un altro giallo cioè non un altro giallo vola un altro cartellino per il Milan è diverso soliti 80 grammi di pasta con proprio un assaggio d'olio seguitemi per altre ricette non si impegna neanche a saltare Emerson Royale Emerson Royale si salta da solo su questo fallo fallo dello stangone oh ai 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 questo è giallo lo sai arbitro che questo è giallo e c'è il terzo giallo che manca all'udinese se è dato rosso prima lo devi dà anche adesso punto su questo episodio santi sicuramente lo stanno valutando proprio adesso perché a mio parere ci sono gli elementi per un cartellino rosso perché è vero ma tanto non lo dà ma tanto non lo dà è rosso ma secondo te lo dà ma vaffanculo neanche il giallo gli ha dato neanche questa è una vergogna ragazzi c'è raga neanche il giallo compreso quel fallo tattico precedente in cui mi sono incazzato c'è un arbitro così si deve fare un anno di serie B dopo aver arbitrato uno scempio del genere ragazzi massimamente gli avevo urlato al giallo per essere diciamo un pochino più diplomatico però ragazzi dai arrivederlo dai che poi col giallo aveva rosicato ma neanche più di tanto dice almeno comunque l'ha punito no nemmeno quello quello al VAR non l'hanno neanche riguardato ragazzi non l'hanno nemmeno riguardato san raga di nuovo gli sbuca Zibue di nuovo ci vanno vicino fateli sbucare ancora mi raccomando oh oh un'altra volta un'altra volta sempre lì sempre lì si dorme questi lo fanno questi lo fanno questi lo fanno questi lo fanno questi il gol lo fanno questi il gol lo fanno datemi retta questi il gol lo fanno andiamo un po' il rigore peludinese ragazzi no eh rosso e ve lo concedo il rosso per il Milan forzatamente ma ve lo concedo manca un giallo peludinese manca un rosso peludinese ok non c'è niente non c'è nulla c'è un arbitro così non può arbitrare in serie ragazzi rigore o meno questo arbitro non può arbitrare in serie ma va c'è stata mai una partita in cui il Milan è stato bello dall'inizio alla fine neanche nel derby vinto ma neanche in quello questa è la verità giocatore giocatore lo diamo un giallo nooo l'idea è sempre quella di costruire avvertura verso Pulisic nooo 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 Pulisic cazzo quando finisce sta partita le finte che fa Pulisic ragazzi sono veramente io non so voi ma mi vengono certe reazioni quando vedo le finte di corpo di Pulisic che sono veramente pazzesche perché sbagliamo sempre i filtranti perché perché il Milan e i filtranti sono una cosa che non andrà mai d'accordo ammoniamo nooo non ammoniamo nooo nooo Zemura Megnan bravissimo fa ripartire Ciuquese nooo Megnan si deve buttare a terra giustamente certo entrato Pajero e John Mellencamp state vedessi piglia gol da John Mellencamp questo non è mai calcio d'angolo però dopo tutte le disgrazie capitate penso sia veramente il minimo lo sai vero quello che ha dato il calcio d'angolo in campo non doveva neanche esserci adesso non so se è chiara la cosa Musa 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 cazzo fai cazzo fai ma io mi chiedo sempre perché gli avversari sti errori non li fanno mai li facciamo solo noi ma manco gli ultimi in classifica fanno sti errori manco loro Ciuquese riceve addosso zona cross verso Abram Pulisic cazzo di parata Abram madonna che gol ti sei mangiato zio avevano ragione romanisti avevano ragione romanisti neanche se te la mettono lì avevano ragione romanisti avevano ragione loro doveva solo fare la torre Abram come si fa sbagliare un gol così c'è un mi chiedo come si fa sbagliare un gol così insieme a quello con l'Inter insieme a quello con la Fiorentina come si fa sbagliare un gol così l'Udinese l'avrebbe fatto sto gol ragazzi l'avrebbe fatto anzi l'ha fatto anche bello quello che gli hanno annullato qua secondo me c'è un infortunio serio questo di Abram è un infortunio serio se ne parlerà lunedì gli faccio la mia previsione due mesi fuori minimo Pagliero no 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 stiamo scherzando col fuoco ragazzi Megnani in netto ritardo su sto tiro Brenner l'outlet è entrato l'outlet quindi o prendiamo gol da John Mellencamp o prendiamo gol dall'outlet del Brenner lo vediamo un po' ma perché non tiriamo mai perché non tiriamo mai col politesta di Cabasele fuori male Biol attenzione a Cabasele ha provato la prima ha provato la seconda la terza potrebbe non essere generoso attenzione qua partono i 10 minuti di recupero altri 7 minuti di gioia ovviamente sono ironico fallo 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 c'ho parole Lotto Cic Musa no ma perché perché i filtranti sempre a cazzo sempre a cazzo i filtranti raga quattro filtranti sbagliati questa partita quattro filtranti sbagliati più il gol a porta vuota vogliamo continuare così o vogliamo fare qualcosa no ditemi voi poi questi rientra è un invi lungo c'è un uomo solo ti attacchi al cazzo perdi palle ricominciano è sempre così è sempre così è sempre così Bigiol questi fanno gol megnano autogol gol deludinese ragazzi e segna così al novantacinquesimo questi lo fanno è dal trentesimo del primo tempo che dico che questi fanno gol ragazzi gol dell'udinese al novantacinquesimo vi meritate tutto quanto sbagliate i filtranti sbagliate con la porta vuota fateli gli errori che tanto la partita è vinta certo la partita è vinta bene godo così dai dai godo dai cercate delle soluzioni prima che sia troppo tardi a buon intenditore poche parole ora che lo annullino no sinceramente mi interessa poco perché la pensazione è stata oscena comunque beh capisco l'uomo in meno perché capisco l'uomo in meno ragazzi onestamente capisco che giocare con un uomo in meno non è facile vi tiro fuori un dato storico ci fu un gol di Benazer contro l'Inter in Coppa Italia e il famoso fuori gioco geografico di Giroud contro Napoli tra l'altro nello stesso campionato ci furono annullati di quei gol lì io ho solo tirato fuori questo dato storico poi ragazzi se l'Udinese ha pareggiato vi dico che si è meritato al pareggio perché se tu non fai il 2-0 prendi 1-1 basta fine e poi lo dovesse annullare ci sarebbero altri 4 minuti di rompimento di coglioni Var c'ho parole intanto chi è chi è chi è in campo ma non credo che ci sia fallo il mio parere in questo caso c'è soltanto da valutare se c'è fuori gioco perché in realtà non c'è un fallo fuori gioco chi dice questo è gol fuori gioco fallo 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 ve lo dico questo in Serie A non deve più arbitrare mi ci sono voluti 98 minuti per dirvi che lo dico contro il mio interesse va bene ragazzi Roma-Siviglia dai quanto gira il karma secondo me questo io io mi espongo ad ogni rischio e pericolo ma secondo me questo era un gol regolarissimo ma vi sta bene così perché questo si chiama karma ragazzi questo si chiama big karma dovevate essere in 10 anche voi voglio vedere se in 10 facevate sto forcing qui questa partita mi ricorda una partita molto famosa si chiama Genoa-Milan era ottobre dell'anno scorso in cui tutti esultavano per un 1-0 e dicevo ragazzi non ci siamo però il problema ero io finisce qua c'è niente da esultare ragazzi io capisco l'inferiorità numerica ma no non ci siamo non ci siamo da arbitro e squadra non ci siamo ci vediamo per la Champions League come c'è niente da c'è niente da è niente da